un saluto amici benvenuti sul nostro canale youtube nel video di oggi andremo a fare un innesto andremo ad innestare un pollone di susino goccia d'oro e innesteremo una marza di prugna ciliegia vi sarete sicuramente accorti negli ultimi video che non ho accompagnato questi video di innesti con il commento parlato perché pensavo che a parlare fossero le immagini mi sbagliavo in effetti al nostro canale si sono iscritti tantissima gente nuova e siamo arrivati a circa 15 mila iscritti per cui queste persone dai commenti mi hanno fatto capire che hanno bisogno di informazioni che per alcuni possono essere scondate mentre per loro invece sono importantissime in quanto saranno le basi per poter iniziare a cimentarsi in questa bellissima parte che è quella dell'innesto tutti gli innesti vengono catalogati in tre raggruppamenti e quindi in innesti a marzo innesti a gemma e innesti per approssimazione la finestra temporale per eseguire gli innesti a marzo è la fine dell'inverno febbraio marzo con marze che vengono prelevate a fine gennaio inizio di febbraio e vengono innestate circa 30 giorni dopo queste marze vengono a frigo conservate vengono tagliate a misura per poter entrare nella parte bassa del frigorifero in cui abbiamo quattro gradi vengono a volte in fogli di plastica e sigillate in maniera che non possa entrare aria e vengono tenuti lì per circa 20 30 giorni la finestra temporale degli innesti a gemma è verso la fine dell'estate agosto settembre mentre invece per gli innesti per approssimazione si possono eseguire sempre in quanto questi innesti vengono fatti su soggetti che vivono di vita propria in quanto quello che sarà poi il forte innesto con quello che diventerà il nuovo la nuova pianta hanno radici ognuno per i fatti suoi e di questi farò un video nei prossimi mesi cominciamo con elencare quelle che sono le condizioni indispensabili affinché un innesto possa andare a buon fine per prima cosa bisogna che ci sia affinità e cioè che appartengono alla stessa famiglia sia il porti innesto che la pianta da dove andiamo a prendere la nostra marza dobbiamo prelevare la nostra marza da rami di un anno ben vigorosi ben sviluppati e soprattutto da rami che siano in buona salute per evitare di poter contagiare la nuova pianta con malattie che già esistevano nella pianta da dove andiamo a prelevare la marza e a questo proposito dobbiamo avere degli utensili delle delle attrezzature ben affilate e disinfettate se dobbiamo fare questi innesti su piante da frutto a foglie caduche come abbiamo detto prima dobbiamo prelevare le marze circa 20 30 giorni prima quindi preleveremo le marze fine gennaio inizio di febbraio metteremo in brigo come abbiamo detto prima e di questo vi rimando un link alla fine di questo video e poi nel momento in cui dovremmo fare l'innesto le tireremo fuori questo per quanto riguarda le piante da frutto a foglie caduche mentre invece per quanto riguarda da fare gli innesti a piante da frutto con sempre verdi del tipo agrumi oppure olivi le marze si possono prelevare al momento ma perché prelevare le marze e poi frigo conservarli si adopera questa tecnica per far sì che quando andremo a fare l'innesto le gemme che sono nelle marze sono ancora in uno stato di dormire mentre invece nel porta innesto avremo che la pianta è in pieno risveglio vegetativo che cosa voglio dire voglio dire che quando noi andremo a mettere le parti del cambio a contatto le parti del cambio a contatto devono lavorare tra di loro se andessimo a prelevare la marze nel momento in cui la pianta è in risveglio vegetativo noi avremmo che nella marze non essendoci stata ancora la saldatura con il porta innesto questa porzione di limpa che contiene andrebbe a lavorare per far aprire le gemme le quali poi si potrebbero anche aprire ma una volta esaurita questa limpa e non essendoci ancora stata la saldatura con il porta innesto l'innesto è destinato a fallire mentre invece facendo l'innesto con le marze frigo conservate e di conseguenza con le gemme ancora dormiente lavorerebbe il cambio del porta innesto il quale cambio come ben sappiamo è quell'anello sotto la corteccia che è deputato a costruire le cellule sia verso l'interno del fusto che anche verso l'esterno avremmo il tempo affinché la saldatura avviene e di conseguenza quando si sveglieranno le gemme e quindi il nesto andrà in risveglio vegetativo comincerà a lavorare però con la saldatura che è già avvenuta e quindi la limpa non solo è quella della sua porzione ma anche quella che viene dalle radici attraverso il porta innesto a questo punto ci chiediamo che tipo di innesto fare innesto a spacco innesto a triangolo innesto doppio spacco inglese innesto a corona è semplicissimo se noi faremo questo investo quando la corteccia del porta innesto si stacca facilmente sotto vedremo un po di umidità e praticamente quella è la limpa che scorre noi andremo e opteremo per un innesto a corona mentre invece se la corteccia non si stacca facilmente dobbiamo optare per degli innesti a triangolo a spacco oppure a doppio spacco inglese ma come facciamo a capire se si stacca facilmente o non si stacca facilmente prima di effettuare l'innesto allora si può capire benissimo intanto se la pianta è magari già in fiore se le gemme si sono ingrossate e poi possiamo andare a fare un saggio un taglietto con il coltello al di sopra in una parte in cui poi dovremmo tagliare che verrà buttata via fare un taglietto fare un saggio dicevo e quindi staccare un po la corteccia e vedere se sotto c'è questo tipo di umidità e se si stacca facilmente ok detto questo possiamo passare ad eseguire l'innesto a spacco però lasciate che prima vi inviti come sempre ad iscrivervi al canale ad attivare la campanella per ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video e se sarà di vostro gradimento condividetelo e commentatelo con gli amici e lasciate pure un like che è la gratificazione al lavoro che facciamo di settimana in settimana dopo aver capitozzato il pollone andiamo a ripulirlo dalle parti sfranciate lo ripuliamo col coltello la corteccia non si staccava facilmente quindi abbiamo optato per un innesto a spacco invidiamo il coltello facendo uno spacco diametrale per la profondità di circa 3 4 centimetri dopodiché abbiamo prelevato la marza dal rame di un anno ben rigorosi e useremo queste gemme qui ne useremo tre togliamo la parte finale del ramo e cominciamo con il fare il cuneo tagli ben lisci e dritti prima da una parte poi dall'altra abbiamo disinfettato il coltello con dell'alcol denaturato al 90 per cento controlliamo il cuneo e rifiliamo ancora ed ecco qui il nostro cuneo andiamo a tagliare la parte superiore della marza e teniamo 3 4 gemme dopodiché con il coltello allarghiamo lo spacco che abbiamo già fatto e andiamo a infilare la marza dentro il portinnesto facendo attenzione che i due campi possono venire a contatto mandiamo giù con la forbice diamo un ulteriore controllata però siamo accorti che i due campi non sono ancora a contatto quindi andremo a perfezionare l'innesto spostiamo un po verso fuori la marza facendo leva con la forbice nello spacco ed ecco adesso è messa a contatto quello di mettere i cambi a contatto e la condizione principale affinché un innesto possa riuscire adesso a tavolino andiamo a vedere quello che è l'errore principale che noi siamo portati a commettere questo è il nostro porta innesto visto in sezione con lo spacco il cambio è laddove comincia questo cerchio più chiaro all'interno sotto la corteccia e il libro questo nel porta innesto per cui quando noi andiamo a fare il nostro taglio in maniera longitudinale apriamolo noi abbiamo che il cambio è questa riga qui sotto la corteccia questo qui nella marza invece con i nostri tagli il cambio è sempre sotto la corteccia questo filo nero che vedete che scende così prima della parte più chiara sotto la corteccia il libro è da questa parte così quindi noi dobbiamo far combaciare mettere a contatto questa linea qui questa linea verticale qui dovrà essere allineata dovrà essere allineata con quest'altra linea qui prima della parte più chiara questo vuol dire mettere i cambi a contatto quindi le due linee all'interno devono combaciare perfettamente questo vuol dire mettere i cambi a contatto per cui nell'innesto a spacco è un po più difficile che dell'innesto a corona che poi vi faccio vedere adesso l'errore che andiamo a commettere con più facilità è quello che noi quando facciamo entrare la marza facciamo entrare la marza con il dito cerchiamo di sentire quella che è la corteccia della marza che sia allineata con quella del porta innesto tutto questo va bene finché le cortecce del porta innesto e le cortecce della marza sono di uguale spessore ma se per esempio la corteccia della porta innesto è più grossa più spessa di quella della marza è chiaro che i cambi non andranno più a contatto ma per andare a contatto la marza dovrà essere messa più internamente quindi il fatto di tenere il dito al di fuori della circonferenza per vedere se sono allineati esternamente è un qualcosa che è sbagliato dobbiamo sempre controllare l'allineamento dei due campi quello del porta innesto e quello della è quello della marza visivamente che coincidano perfettamente da qui e cercare di mettere la marza più dritto possibile tornando adesso al nostro innesto che stiamo facendo fuori cominciamo con il nastro adesivo a nastrarlo abbastanza stretto in maniera da poter stringere la marza nel porta innesto una volta che abbiamo messo lo scotch e abbiamo stretto per bene il porta innesto andiamo a rifilare la marza per avere una superficie più pulita e con il mastici cicatrizzante andiamo a sigillare tutte le parti scoperte in maniera da evitare che siano delle porte d'ingresso per funghi e patogeni mettiamo il mastici anche sopra la testa della marza facciamo un ulteriore controllo non ci devono essere parti scoperte perché la marza a quel punto oltre ad essere delle porte d'ingresso per funghi e patogene potrebbe anche disidratarsi attraverso quelle aperture è trascorso un mese circa e ecco qua come possiamo vedere il nostro innesto ha preso ci sono già i germogli che sono venuti fuori il video lo chiudo qui vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto lasciate un like commentate e condividete tra di voi iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella in maniera da ricevere le notifiche tutte le volte che caricherò altri video grazie grazie ancora per la visione buoni innesti un saluto alla prossima ciao grazie 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 grazie